Ciao, sono Marisa, operatrice del consultorio familiare. Il mio modo di aiutare ad essere sicuri è l'informazione e la prevenzione per la salute affettiva e sessuale. Se hai in dubbio qualsiasi, rivolgiti senza timore alle nostre strutture. Sarà per te facile, sicuro e gratuito. E tu, sei sicuro di essere protetto? Ciao, sono Giovanna, la cuota del ristorante Osteria La Fesa di Finale Medico. Nel mio lavoro, punto tutto sulla qualità dei prodotti che scelgo, perché la qualità degli alimenti è la sicurezza dei miei clienti. E tu, sei sicuro di mangiare sicuro? Sicuramente complice di questa situazione è stata la nuova edificazione che c'è stata di fianco e soprattutto probabilmente i locali sottostanti, i due locali garage. E tu, sei sicuro di essere sicuro? Ciao, sono Sgarbi Lemmi, titolare dello studio Tattuomiglia di Medola. Se volete fare dei tatuaggi o dei piercing, rivolgetemi a persone serie e preparate. E accertatevi che vengono rispettate tutte le norme igieniche e di sicurezza. E tu, sei sicuro di essere sicuro? La curva più peligrosa può evitare in la barra di umano. E tu, sei sicuro di essere sicuro di essere sicuro. Quando si vedono Le montagne che non c'è foschia Quando le vacanze iniziano E quando poi torno a casa mia Quando mi alzo e sento che ci sono Quando sfreghi il naso contro il mio Quando mi respiri vicino Sento che, sento che Per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo Che sto vivendo Grazie mille Ciao, sono Giorgio Siena Sono dirigente scolastico dell'Istituto Caldi Finale Midian Insieme agli studenti abbiamo sviluppato idee e progetti E per dare una sicurezza In un senso emotivo di partecipazione E crediamo di esserci usci Ciao Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti And you, are you sure to be safe? And you, are you sure to go? And you, are you sure to go? Yes, you are you sure to go? In the region, I have done all the whole day in the region Ti fermi. Ciao sono Luca. Ciao, sono Peccio. Ciao sono Peccio, sono di Ramanino, già con il San Giovanni. Dai, tanto dopo la rifacciamo. Facciamo, è una prova. Puoi andare? Tu sei dietro le casette, non sono in crisi, no. Dai, sei con le casette, fai vedere le casette. Dai, vediamo. Va bene. Più. Allora, guarda, io sono partita. Ah, anche leggi. Sì, ma tu poi l'altro rifacciamo, non ti preoccuparti. Ciao, sono Antonia della grande parte. Il mio... Dopo lo rifacciamo. Riparti? Mi aspetta. E tu? Sei sicuro di essere sicuro? No, è permesso. E tu la fa 20 volte. E tu la fa 20 volte. Dai, va. Però Peccio è nato buono. No. Sei bellissima, Chiara, non ti preoccuparti. Quando vuoi, io sono già partita. Per una futura si spera patente di guida. Rifallo. Sì. Rrrr, è prrrr. Eeeh Lavorare! Lavorare! No, è che la qualità è la scuola. Uno, 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 uno. È tutto, di sicuro, di aver capito. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info